C'è un documento del 14 aprile 2017 firmato dal responsabile unico del procedimento per il project financing del nuovo ospedale di Chieti che mette una pietra tombale sull'iniziativa così come presentata dal gruppo Maltauro. A sostenerlo è il gruppo di Forza Italia di Chieti capitanato dal consigliere regionale Mauro Febbo e dal deputato Fabrizio Di Stefano. Cinque paginette sottoscritte dall'ingegner Filippo Manci che bocciano l'opera che prevede nuove costruzioni, demolizioni e ristrutturazioni all'interno del nosocomio clinicizzato oltre alla gestione di alcuni servizi non sanitari e commerciali. Nella relazione di sintesi arrivata sul tavolo dei vertici della ASL il RUP mette in evidenza come allo stato attuale della programmazione sanitaria non ancora perfettamente definita per l'individuazione degli ospedali di secondo e di primo livello sia altamente probabile il ricorso a varianti di progetto con il rischio quindi che lo stesso non si attagli più alle esigenze sanitarie della ASL. In più Manci sottolinea la mancata assunzione del rischio di impresa da parte di Maltauro dando, assieme ad altre motivazioni, valutazione non positiva della proposta di project financing. Forza Italia ha invitato anche la magistratura ad accendere un faro sul liter di questo progetto. Prima c'era una relazione che era la base per cui si è cominciato a ragionare, hanno cominciato a ragionare sulla demolizione e ricostruzione cioè c'era il problema del sismico, statico e dell'angigendio. I due problemi statico e dell'angigendio sono stati risolti negli anni, rimane quello sismico ma quello sismico riguarda tutta la città di Chiedi. Noi chiediamo che questo progetto si fermi, che venga posta a fine a questa carella e che si ragioni seriamente di intervenire una volta per tutte solo su quella parte che ha problemi sismici con la nuova ingegneria antisismica.